Garantire una pesca sostenibile, diversificare le attività economiche nelle zone evocate, tra le quali principalmente la costa metapontina, promuovere il protagonismo e l'associazionismo dei pescatori. Per il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Castelluccio, sono queste le azioni su cui l'assessore all'agricoltura Ottati dovrebbe lavorare per ridurre le problematiche relative alla pesca nel metapontino. Ci vuole ben altro, evidenzia Castelluccio, di 500.000 euro destinati al finanziamento di porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca, un provvedimento finanziato dal Fondo Europeo Pesca che è giunto, tra l'altro, alla conclusione. Pur riconoscendo che il comparto della pesca nella nostra regione ha numeri molto ridotti, circa 50 unità impiegate e un fatturato di 7 milioni di euro l'anno, afferma Castelluccio, lungo la costa del metapontino la realizzazione di approdi e punti di sbarco è un'esigenza prioritaria. In più, si dovrebbe pensare all'attivazione di misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne, oltre che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. Grazie a tutti.